Fabio Eguelfi, un lungo infortunio ti ha fermato in questa stagione, ora però sei tornato in campo e sei carichissimo per ricominciare. Sì, ho recuperato bene dall'infortunio, per ora non ho problemi, mi sento bene e quindi sono pronto a ricominciare il cammino con i miei compagni. In allenamento, anche durante i contrasti, comunque non hai nessun tipo di problema? No, assolutamente, poi non è un infortunio come un ginocchio che poi si ha paura di contrasti, io avevo un problema, zoppicavo, adesso il problema non ce l'ho più, quindi è tutto risolto. È stato un lungo periodo, molto difficile, cosa hai pensato? No, è stato un infortunio abbastanza grave, però anche i medici, subito dopo l'operazione, mi hanno rassicurato che se avessi fatto una riabilitazione fatta per bene non avrei più avuto problemi. Così ho fatto, anche grazie all'Atalanta che mi ha curato nel migliore dei modi e quindi adesso sono a posto. A tuo avviso come si può sconfiggere una squadra che in trasferta sta facendo davvero molto bene, soprattutto al quarto posto? Ma questo diciamo che è una cosa a cui deve pensare il mister, noi poi mettiamo in atto le sue idee e sono sicuro che possiamo farcela.